Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Apriamo con la cronaca che arriva dalla città di Verona dove un neonato è stato abbandonato la scorsa notte in strada. Fortunatamente è stato trovato ed è stato portato in salvo. È stato salvato poco dopo la mezzanotte da una volante della polizia. È successo nel quartiere Golosine. Il bambino di circa 4 mesi è stato trasportato in ambulanza all'ospedale della donna e del bambino. È ricoverato in questo momento in terapia intensiva ma non sembra correre pericolo di vita. Il ministro della salute Roberto Speranza durante un incontro con alcuni giornalisti ha detto che l'Italia ha i numeri molto diversi rispetto a quelli di altri paesi europei ma non può pensare di essere fuori da questa dinamica di crescita dei contagi del tutto ormai evidente e innegabile. Il ministro ha aggiunto che il virus in Europa si sta diffondendo in modo molto veloce. Tuttavia, proseguito in questo contesto, abbiamo un piccolo vantaggio sugli altri paesi. I nostri numeri sono ancora inferiori e questo ci può consentire di mettere in campo azioni che ci consentano di non disperdere il vantaggio. La Cisla considera inaccettabile l'interruzione del blocco dei licenziamenti perché significherebbe un dramma sociale. Lo dice il numero due del sindacato Luigi Sbarra. Sono sbagliate e preoccupanti, dice le parole del ministro Patuanelli sull'ipotesi di interrompere in ogni caso il blocco dei licenziamenti entro la fine dell'anno. Una prospettiva che la Cisla ritiene assolutamente inaccettabile. L'emergenza sanitaria, economica e sociale continua a colpire duramente tutti i settori produttivi del nostro paese. Procedere in questo modo significherebbe aggravare ulteriormente le condizioni di tantissime persone e famiglie con ripercussioni anche sulla domanda interna. E adesso continuiamo. Dobbiamo parlare di un'importante operazione eseguita dalla Polizia Postale di Venezia. Sono stati scoperti e arrestati numerosi pedofili. Sentite. Vasta e complessa operazione della Polizia Postale di Venezia coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio di Polizia Postale e Comunicazioni di Roma disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nell'ambito del contrasto alla pedopornografia online. Eseguite decine di perquisizioni ma sono scattati anche arresti e denunce. Gli indagati sono accusati di divulgazione, cessione, detenzione di ingente quantità di immagini, video e foto pedopornografiche. Si tratta di una complessa attività di indagine che ha visto impegnate le unità specializzate della Polizia Postale di Venezia. L'operazione si è sviluppata con la meticolosa analisi dei dati informatici e delle chat di messaggistica del social Kik identificati 16 italiani che scambiavano materiale pedopornografico credendo di agire nell'anonimato. La Polizia ha isolato la posizione dei singoli nickname recuperando per ognuno di loro il materiale condiviso ed estrapolando le connessioni IP utili al proseguio delle indagini. I pedofili sono stati tutti identificati. Il più anziano del gruppo ha oltre 60 anni, il più giovane 23. Si tratta di impiegati, camerieri, operai, sequestrati, migliaia di file. Nell'ambito dell'operazione sono stati arrestati un sessantenne di Mantua, un trentenne di Brescia, un quarantenne di Modena e un cinquantenne trentino per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. IVA agevolata per i beni che vengono acquistati per fronteggiare l'emergenza sanitaria come mascherine, piantane contenenti dispenser, disinfettanti, kit o strumenti per eseguire i test sierologici ma anche per i termometri per la misurazione della temperatura inclusi quindi termoscanner, beneficeranno dell'esenzione dell'IVA fino al 31 dicembre e dell'IVA agevolata al 5% a partire dal 2021. L'Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare con tutti i chiarimenti. Mose in azione a Venezia per la seconda volta durante lo stato di emergenza. La marea è stata fermata con successo. Le paratoie, ricordiamo, permettono di sbarrare il passaggio tra mare e laguna alle tre bocche di porto, fermando così la crescita della marea in città. L'operazione è stata preceduta, come sempre, dall'ordinanza della Capitaneria per l'interdizione a Mose sollevato della navigazione. Il maltempo di oggi ha causato numerosi disagi nella zona di Chioggia e Sottomarina. Una trentina le richieste di aiuto per interventi al 115. In particolare i danni sono stati provocati dal vento. in supporto ai vigili del fuoco del territorio, anche altre squadre provenienti da Mestre. E lungo la strada Romea 309 a Sant'Anna di Chioggia, fuori strada un camion cisterna carico di ipoclorito di sodio. Fortunatamente non ci sono stati gravi conseguenze. Sentite come è stata gestita l'emergenza. Incidente stradale lungo la Romea 309 a Sant'Anna di Chioggia, dove è uscito di strada e si è rovesciato un camion autoarticolato cisterna carico di ipoclorito di sodio. Il leso, l'autista, nessuna perdita. Fortunatamente dalla cisterna carica di 25.000 litri di prodotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal locale di staccamento e da Mestre con il nucleo nucleare biologico-chimico-radiologico. Hanno iniziato le operazioni per il travaso dell'ipoclorito di sodio su un'altra cisterna fatta arrivare sul posto. Successivamente è stato recuperato il mezzo. Nella giornata di ieri, agenti del commissariato di polizia di Mestre hanno denunciato per spaccio di stupefacenti un nigeriano irregolare sul territorio, senza fissa dimora e peraltro con precedenti simili. L'uomo era stato arrestato a gennaio e condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa per aver spacciato eroina e successivamente denunciato ancora due volte per lo stesso reato. Gli investigatori, dopo averlo controllato per ore, dislocati in vari punti di osservazione nei prestiti della stazione ferroviaria di Mestre, hanno potuto verificare ancora una volta la sua attività di spaccio. Al momento opportuno sono intervenuti fermando un uomo che aveva appena acquistato un grammo di eroina e subito dopo hanno bloccato il nigeriano trovato in possesso di 120 euro. Il soggetto è stato accompagnato al commissariato di Mestre dove dopo gli accertamenti di rito è stato denunciato per spaccio. E adesso vi facciamo vedere delle immagini molto forti che arrivano dalle Marche dove 70 gatti sono stati sequestrati in uno scenario da brivido. L'operazione è stata condotta dalle guardie zoofile dell'OIP assieme ai carabinieri forestali. Ora questi gatti cercano un padrone. Sentite. Cercano casa e presto circa 70 gatti, cuccioli, giovani, adulti sequestrati dalle guardie zoofile dell'Organizzazione Italiana Protezioni Animali, OIPA, di Ancona. Si tratta di esemplari di razza e loro incroci. Vivono ancora nello scenario di degrado che si è presentato davanti agli agenti OIPA, ai carabinieri forestali e a un veterinario intervenuti a seguito di una segnalazione nei mesi scorsi, ma ora possono essere dati in affido. Dall'OIPA spiegano che il magistrato ha dato il via libera alle adozioni. I gatti vivono ancora nelle Marche, in quella casa, ma non meritano di vivere in quello scenario. In una nuova casa questi poveri gatti, circondati da cure e affetto, potrebbero rinascere e dimenticare il passato. L'OIPA lancia un appello. Chiediamo a tutti un atto di generosità e solidarietà. La donna che li deteneva è ora indagata per maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Per informazioni è possibile visitare il sito dell'OIPA oppure scrivere a guardieancona-oipa.org oppure telefonare al numero 351-88-61520. Domani, venerdì 16 ottobre, alle 11, la Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, presenzerà a Treviso all'inaugurazione dell'anno accademico della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso le sedi dell'Ulss2, marca Trevigiana. La cerimonia si terrà nella sala convegni dell'ospedale Cafoncello. Insieme al Governatore saranno presenti il Rettore dell'Università di Padova, il Professor Rosario Rizzuto e il Direttore Generale dell'Ulss2, il Dottor Francesco Benazzi. Ed ora un'occhiata alle condizioni climatiche. Le precipitazioni sono in diradamento in queste ore, anche se saranno ancora possibili dei rovesci forti. I venti inizialmente ancora forti da nord-est sulle dorsali prealpine e sulla costa, tratti anche molto forti a largo, saranno tendenti ad attenuarsi dalle prossime ore fino a diventare tesi. È tutto per questa edizione, rimanete con noi perché tra poco ci sarà l'informazione nazionale, economica e sportiva. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro una buona serata. e vi ricordo che alle 20.30 partirà un nuovo programma televisivo dal titolo Da Sindaco a Sindaco. Il sindaco di Rovolone, Maria Elena Sinigaglia, incontrerà il sindaco di Albettone della provincia di Vicenza. Io vi saluto e vi do l'appuntamento a domani. e vi ringrazio ancora per la videocamera. Alla prossima movie. e vi ringrazio ancora per la visione. Grazie.